Ragazzi, oggi ho dei nomi davvero davvero interessanti, mandiamo la sigla e poi ve li mostro Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special E allora, siamo con il video che racchiude sia l'analisi sugli arbitri per la 37esima giornata di Serie A Sia la serie sui marcatori, quindi tutto compattato in un video Vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball Applicazione che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio Sia per le probabili informazioni, statistiche, infortuni, calcio o mercato E a proposito di calcio o mercato, sono andato a prendere una notizia che riguarda molto i fantallenatori Questa trattativa, no? Per lo simente, perché? Perché tantissimi mi state chiedendo di sto giocatore Se sarà appetibile al fantacalcio, come dovremmo, quando dovremmo spendere per lui Ragazzi, calma, 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 è presto, ancora il calcio mercato si dovrà sviluppare Quindi non è chiaro che Rosa avrà il Napoli anche oltre eventualmente a questo giocatore Però ovviamente è un profilo molto molto interessante Soprattutto, diciamo, le domande stanno arrivando dai tifosi del Napoli Che sono impazienti, ecco, di vederlo all'opera e di sapere soprattutto magari una mia opinione Però tranquilli, ci sarà tempo per analizzarlo e per parlarne durante agosto, durante questa estate Quindi, mi raccomando, pazientate Comunque, vedete, su OneFootball trovate l'articolo a riguardo Ed anche altri articoli interessanti sul calcio mercato e non solo Quindi vi lascio il link in descrizione per scaricare l'app Ok? Detto questo, andiamo a vedere, anzi vi ricordo che ci vediamo in live intorno alle 18.30 18.15 qui su YouTube Poi ci spostiamo su Carmi Special Mi raccomando, non mancate ragazzi, ok? Attivate la campanella anche a Carmi Special TV sulla piattaforma Piondo Viola E trovate anche il nostro store in descrizione perché ve lo sponsorizzo il nostro store Anche per il discorso legato a, come si dice, ai ricordi Perché molti di voi stanno conquistando la maglia o la tazza dei fantaconsigli Proprio per, magari, come ricordo di questo fantacalcio e del canale Comunque, passiamo ai nomi Passiamo ai nomi di questa giornata ragazzi O meglio no, in realtà dovremmo prima analizzare gli arbitri Facciamo così, prima vi analizzo gli arbitri Vediamo se vado a prendere immediatamente il nostro file Eccolo qui, dovrebbe spuntare, perfetto Allora ragazzi, nel file appena aggiornato abbiamo delle grosse novità Ovvero che alcune delle partite sono state affidate a arbitri, diciamo, non proprio esperti Che non hanno arbitrato tantissime partite quest'anno E quindi non abbiamo statistiche, diciamo, molto dettagliate E questo però è proprio ciò che mi preoccupa Perché alcune di queste partite sono, diciamo, un po' sbilanciate Soprattutto ad esempio Lazio-Brescia Quindi dove viene affidata a Massimi Io penso che qui ci sarà una vittoria schiacciante della Lazio E con magari qualche anche calcio di rigore per Ciro Immobile Che si potrà quindi avvicinare ancora di più Se non raggiungere il record di Higuain Quindi attenzione a questo aspetto Poi viene dato Verona Spal a Sozza L'altra è Cagliari-Juve a Gersini Come vedete ragazzi ci sono diverse partite Che vengono date ad arbitri che non hanno arbitrato chissà quante partite in questa stagione Mentre le indicazioni le abbiamo per quanto riguarda Pairetto in Parma-Atalanta Attenzione ragazzi perché è un arbitro un po' particolare Commette qualche errore grossolano ogni tanto Qualche calcio di rigore discutibile Anche qualche cartellino rosso di troppo Mentre Samp-Milan a Manganiello Anche lui statistiche particolari Perché a livello di cartellini gialli è nella media Ma a livello di rossi e rigori è abbastanza sopra la media Soprattutto per i rossi diretti ne ha dati diciamo parecchi Poi abbiamo in Inter Napoli Valeri Lui diciamo è uno che ha concesso ecco diversi calci di rigore Però è abbastanza equilibrato nelle scelte Cioè nel senso si fa... Non si fa influenzare molto Cerca di essere equilibrato nelle scelte Quindi da quelli che ci sono Super true ogni tanto Che è un po' generoso a volte però È abbastanza equilibrato Orsato invece in Udinese-Lecce Arbitro diciamo di esperienza Dovrebbe essere forse la sua ultima stagione Quindi potrebbe essere una delle ultime due partite Se non l'ultima Udinese-Lecce appunto una sfida Comunque Valeri-Lecce Abbiamo visto Deve assolutamente magari vincere Però nel complesso ragazzi sarà una partita Strana Strana Forse diverse ammunizioni ci potranno essere Lui a livello di statistiche È solo leggermente sopra la media Con i cartelli di gialli nel complesso e nella media Quindi vedremo Vedremo ragazzi State un po' attenti Soprattutto come detto Alle partite dove non ci sono statistiche importanti Perché sono arbitri che non hanno arbitrato molti match Ok? E' appairetto Occhiappai retto Detto questo andiamo a vedere i giocatori che ho selezionato Per questa giornata Come marcatori Soprattutto quelli ignoranti Ragazzi Ho selezionato qualcosa di strano Ovvero Il primo nome che vi faccio è Simon Kier Ragazzi Kier Perché? Non ha ancora segnato questa sezione Però sta facendo delle ottime ottime prestazioni In più ho notato che la Samp Sui calci d'angolo Ogni tanto si distrae Concede qualche magari marcatura leggera Quindi potrebbe Ecco Kier Trovare il modo di svettare di testa E metterla dentro Potrebbe essere il suo primo bonus Ha fatto delle buone prestazioni di recente Vedete come diversi sei e mezzo Cioè sulle ultime cinque partite Ho preso quattro sei e mezzo Che non è assolutamente male Per il modificatore soprattutto Chissà che non gli porto fortuna Anche per il più tre Magari appunto di testa Poi ho inserito ragazzi Un centrocambista Barak Lui in teoria potremmo anche inserirlo Negli ex Perché gioca Udinese-Lecce Lui è appunto ex Giocatore dell'Udinese Ha segnato un solo gol in questa stagione ragazzi Per questo l'ho inserito Negli improbabili Perché ha una media voto orribile 5.85 E una fanta media Del 5.98 Tutto a causa del singolo gol Segnato Siglato in questa stagione Io penso Possa essere uno dei più positivi Del Lecce In questo match Spingere parecchio Uno che comunque prova il tiro Quando ne ha l'opportunità E chissà che non inizia Il portiere dell'Udinese Musso con qualche Magari Sta affilata da fuori Questa è la mia sensazione La sto buttando lì ragazzi È sempre una cosa un po' improbabile Altro nome che ho inserito È Lukic Altro nome abbastanza ignorante Per il centrocampo Perché ha segnato anche lui Un solo gol in questa stagione In 28 giornate Però è stato di recente Mi pare Eh sì Alla 33esima giornata Anche lui Media voto orribile Fanta media orribile Proprio Classico Improbabile Con 5 munizioni Un'espulsione Un solo gol Un solo assist Però ragazzi Siccome Torino-Roma Mi sa di una partita così Dove ci sono tanti giocatori Molto più appetibili Io sono andato sull'improbabile Su Lukic Che mi ispirava particolarmente Non credo lo abbiate Nella vostra Fanta Rosa O mi auguro Non lo abbiate Ecco Nella vostra Fanta Rosa Però così Mi sentivo sto nome Ignorantissimo Da mettere tra Tre marcatori Passiamo invece ai sicuri Cioè Colore da quali mi aspetto Un probabile più 3 Ibrahimovic Ragazzi Contro la Samp Ho già messo Kier Ma è molto probabile Possa segnare Ibrahimovic O dal dischetto O su azione Mi aspetto Diverse occasioni Da gol Per il Milan Ibra Dovrebbe essere Il finalizzatore Cardini Appunto Dell'attacco del Milan Quindi Mi aspetto da lui Un gol O addirittura Una doppietta Potrebbe avvicinarsi Addirittura A doppia cifra Che comunque sarebbe Clamorosa Visto che ha giocato Praticamente Metà campionato Anzi ha saltato anche Qualche giornata Per infortunio Quindi solo 16 giornate Comunque è una buonissima Media voto Per chi l'ho andato a prendere Magari all'assa di febbraio Io l'ho preso Speriamo Quando possa segnare Mi possa Sigla Posso siglare La mia vittoria Del frontacalcio Quindi vedremo ragazzi Ho sensazioni positive Su di lui Contro la Samp Poi inserito invece Berardi Mimmo Berardi Ragazzi 13 gol fatti In questa stagione Quindi stagione Più che positiva per lui In solo rigore Sbagliato Che è l'unica Nota negativa Insieme all'espulsione Qualche ammunizione Di troppo 6 assist Comunque è una buonissima Stagione ragazzi Già aver superato La doppia cifra È già qualcosa di buono Inoltre Contro il Genoa Potrebbe avere Diverse occasioni Era indeciso In teoria Quello più probabile È Caputo È chiaro Però Caputo È in forte ballottaggio Mentre Berardi Dovrebbe giocare Quasi sicuramente Quindi sono andato Su di lui Semplicemente Per questo motivo Secondo me Potrebbero segnare Entrambi Sia Caputo Che Berardi Però l'ho inserito Appunto Domenico Per una Maggiore titolarità Ecco Poi Ho inserito Ciro Immobile Ciro Immobile Ragazzi Ha già fatto la tripletta La scorsa giornata Io vado a pensare A tutti quei Fan d'allenatori Preoccupatissimi Immobile Non segnava più Quindi è un tracollo Ragazzi Tripletta Già praticamente A 34 gol In 35 giornate Sì Ne ha segnati 14 Sono tantissimi 14 su rigore Ma ricordate Lo stesso dicevamo L'anno scorso Di Quagliarella E poi Quagliarella Comunque ha tracinato I fan d'allenatori Alla vittoria Quindi a noi I fan d'allenatori Non ci interessa come segna L'importante è Possere portare Più 3 Questo ci fa pensare Che magari Il prossimo anno Potremmo cambiare Il bonus Malus Del rigore Quindi un più 2 Un meno 2 Dare i rigori Ad esempio sbagliati E segnati Quindi questa potrebbe essere Un'idea Comunque È avvicinissimo Al record Di Higuain Contro il Brescia A un'occasione unica Ragazzi Ci proveranno A tutti i costi Magari a farlo segnare In qualche modo Potrebbe addirittura Fare una doppita Quindi già in questa giornata Raggiungere Higuain E poi giocarsela All'ultimo Contro il Napoli Proprio Sarebbe Tra l'altro Una cosa clamorosa Cioè Raggiungere Higuain In questa giornata Comunque Proprio contro il Napoli Nell'ultima giornata Avere l'opportunità Di siglare Il record Che è stato appunto Siglato da un giocatore Nel Napoli Comunque 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 Quindi io secondo me Quando il Brescia Almeno un gol Lo dovrebbe segnare Gli ex Ora c'erano tantissimi Tantissimi ex Stagiornata Un po' meno attaccanti Ma molti centrocampisti Abbiamo visto Giabarac Citato in precedenza Io ho inserito Pulgar Ragazzi Fiorentina Bologna Ovviamente Pulgar Quando lo citiamo Tra i marcatori È sintomo Di calcio Di rigore Quindi Mi aspetto Magari possa Non mi aspetto Ecco Lagufo così Potrebbe esserci Magari un calcio Di rigore Pulgar Essendo un giocatore Del Bologna Nel scorso Tra l'altro Ha segnato diversi Calci di rigore Appunto Nella squadra Di Mijajlovic Potrebbe Magari metterne dentro Qualcun altro Già si ha segnato 6 gol Ha sbagliato Ha sbagliato Un calcio di rigore Ha fatto 5 assist Da fermo Vedremo Secondo me Potrebbe magari Eserci un tiro Dal dischetto E Pulgar Potrebbe metterla Dentro Da ex Poi Ho inserito Anche un altro Ex centrocampo Kulusevski Ve l'ho citato Già nei video Dei fantaconsigli Ieri Non l'avete visto Andatelo a recuperare E Dejan Ragazzi Sta Stai ancora in forma È un fenomeno Ragazzi Un grande acquisto Da parte della Juve Questo Perché E tra l'altro Nonostante non sia più Di proprietà Ecco Nel parma Sta comunque Facendo bene Vedremo se contro la sua Ex squadra La squadra dove è cresciuto Comunque Farà qualcosa Non sarà una partita Semplice È chiaro Lo conoscono anche un po' Quindi Proveranno a limitarlo Però ragazzi Potrebbe comunque Essere lo stesso Devastante In contropiede Soprattutto Dove L'Atalanta Qualcosa magari concede E potrebbe magari Portare un più 3 Da ex Vedremo se Sarà così Questi sono i nomi Per questa giornata Sono curioso di leggere I vostri Qua sotto nei commenti Vi ricordo di scrivere Un improbabile Un sicuro Ed un ex Di giornata Vi ricordo anche Della live Più tardi Intorno alle 18 e 15 Qui su youtube E poi ci trasferiremo Su carmi special tv Mi raccomando Seguitemi sui social Anche link in descrizione C'è anche il canale Dove mi mando Sempre la notifica Per i video Le live Tutto ciò Che riguarda il canale E inoltre Vi ricordo appunto Di scaricare One foot Dal link Che trovate qua sotto Detto questo Ci vediamo come detto Pomeriggio In live Mi raccomando Non mancate Da carmi speciali Tutto Alla prossima Ciao Ciao